Distanziamento sociale e sicurezza stradale, questi i due ambiti su cui si concentreranno maggiormente gli sforzi delle forze dell'ordine a retine, come disposto al termine del vertice in prefettura ad Arezzo per il ferragosto sicuro. È stata così concordata l'intensificazione da parte delle forze di polizia delle misure di prevenzione e contrasto della criminalità, nonché l'attività di controllo generale del territorio, in concomitanza con gli spostamenti delle persone verso località turistiche e di soggiorno. I dispositivi di sicurezza, spiegano in una nota, saranno comunque modulati con le disposizioni relative al contrasto e al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 affinché gli eventi, le manifestazioni ed ogni altra espressione del bisogno di socialità ed imprenditoria si svolgano in una cornice di massima sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale tese ad evitare situazioni di affollamento degli spazi e di assembramento di persone. Per quanto riguarda invece il tema della sicurezza stradale, continua l'opera già avviata all'inizio della stagione estiva delle forze di polizia di monitoraggio dei flussi veicolari a cui si aggiunge un rafforzamento dei controlli mirati a prevenire e contrastare le condotte di guida più pericolose.